Che cos'è la pena capitale? La pena capitale è una sanzione combinata dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle procedure processuali e della legge che prevede la privazione della vita. Con quali modalità viene eseguita la pena capitale negli stati che ancora la prevedono? Viene eseguita tramite impiccagione praticata in Iran e in altri paesi, iniezione letale diffusa in molti paesi tra i quali la Repubblica Popolare Cinese, il Guatemala, Taiwan e gli Stati Uniti, la sedia elettrica, la fucilazione in Indonesia e negli Emirati Arabi, la decapitazione in Arabia Saudita. Quanti stati al mondo praticano ancora la pena di morte? Dei 193 membri delle Nazioni Unite attivi nel 2024, 54, il 28%, mantengono la pena di morte sia nella legge sia nella pratica. Qual è stato il numero delle condanne alla pena capitale eseguite nel 2023? Le condanne alla pena capitale sono state 2428, il 20% in più rispetto al 2022. A che epoca risale l'abolizione della pena capitale in Italia? In Italia, prima dell'unificazione politica, la pena di morte era praticata ovunque, tranne che in Toscana. Abolita nel 1889 in tutto il regno d'Italia dal codice Zanardelli, fu ristabilita dal fascismo per i più gravi delitti politici e comuni. Il decreto legge 224 del 10 agosto 1944 la soppresse di nuovo e la sostituì con l'ergastolo. Ammessa dalla Costituzione soltanto nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, è stata eliminata anche da questo ambito con la legge 589 del 1994. Al prossimo episodio